Ciao a tutti amici, siamo alla fase finale per il colpo della Pacific Standard, invio e tolgo l'ester, ok. Ok, ho dato il 20% a tutti, siamo pronti? Ok, allora vestiti a poliziotti, io sono pronto, manca virus. Ok, qui ci sono un macchino. Ok, questa è l'autovettura che dovrebbe essere nel casino, questo modello, sì, di questa settimana. Siamo già in banca, ma non è andato al punto X, è qui. Ok. Ok, siamo vestiti da poliziotti. Ok, io sono l'hacker, con me c'è virus e l'ultimo, loro due sono indietro controllo stagi. Noi due entriamo in banca, faccio subito fuori il primo. Bravi. Devo aspettare che virus mi piazza la MP, dovrebbe essere così, eh, MP. Che arma ho? Aspetta che demo, mo la cambio. Ok, hey. Sto qui dietro perché potrebbe uscire due della sicurezza. 6 minuti abbiamo, prima che scatta, io l'ho rotto, l'ho scassato l'allarme. Ok. Adesso hackerò il sistema. È facile qui, eh. Non è per nulla difficile. Allora, il mio computer. Ok, vado. Un lookhead. Apri. Facciate che si è in venta a tutte la ROC. Un lookhead. Use the remaining thermal explosives on the titanium gates in the vault. 4 minuti. Quattro minuti. 36, 35. Mi rimane che scatta. Qui non ci sono errori. Ma inizia a caricare veloce, va? Ma come vado? Dai, raga, dai. 3 minuti e 50. Caricato tutto. Caricato tutto. Ok, abbiamo fatto il pieno. L'allarme è scattato lo stesso. Io ho spaccato, ho spaccato, ho spaccato, ho spaccato un paio di allarmi, ma nulla da fare, scatta sempre. Eh, sì, eh. Ok, c'è solo polizia, quindi è buono, buono per ora, perché non abbiamo la sbat. Eh, facciamo paura, eh. E' over for you, this is the police! The cops have cleared all the vehicles near the bank. You're making a run for those bikes. I'll take you on the best route, trying to keep you away with as many cops as I can. I need you to stay together. Come out of the bank, take a left down Vinewood Boulevard and duck down the alley to the right. Come on, move! If you let the cops hit you, you're gonna lose cash. That's coming out of your cut, not mine. Keep going down the alley. There'll be more cops on the way. Get out of there! Now, further down the hill, take a right. è che siamo messi molto bene cazzo virus è andata ah no elizabeth il primo che mi è entrato nel gruppo è qui va secondi se primo invio vuol dire che abbandono ok comunque siamo messi bene dai siamo ancora dentro i need you to stay together come out of the bank take the left albine on blue hard and duck down the alley to the right moving back come on move dai ragà a a a a adesso sistemo la pattuglia che sta arrivando mi fermo un attimo qui a dare una mano adesso butto giù tutto qua per fare la strada perché abbiamo bisogno via 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 minchia l'elicottero facciamo arrivare andati qui ci dovrebbe essere forse due non ci sono che culo alle volte ci sono due poliziotti sono già sulla moto ottimo e aspetto il gruppo ottimo no questa si questa mi sta piacendo aspetto il gruppo che sono qui vediamo cosa decidano se hanno magari qualche strategia migliore ma non penso ok due tre brava dai dai manca l'ultimo dai 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 che ce la facciamo dai ostia è già caduto orca troia aspettiamo aspettiamo dai andiamo sangue freddo seguitemi lo so magari mi sentono stavolta sto largo e tanto tempo che non faccio questo colpo e stiamo andando ultimamente la mia è più lenta come mai perché c'ho il grano c'ho il grano è pesante la moto porca miseria ragazzi quando esce quel punto verde ottimo cazzo la più veloce di me ma che hanno super internet ma che hanno la wind sono caduto sono caduto dove la moto non trovo la moto non la vedo dammi la macchina uguale un milione cento abbiamo perso centomila non è molto ho perso la moto cazzo mezzo agli alberi posso ancora farcela posso ancora farcela posso ancora farcela vediamo quante battuglia ho ucciso la sirena uno è rimasto giù io non abbandono gli amici cazzo è uscita quasi la SWAT cazzo meno male che c'ho ancora le gomme sane dai 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 che cazzo ho preso lo sbirro in pieno E' che posso ancora salire Con questa macchina Canyon Mi trovo un po' in difficoltà Non ho la moto Mi hanno aspettato Ce n'è uno Manca uno E là Sta arrivando Arriva Sì Sì Virus E' arrivata Ok Ho il mitra MK MK2 MK2 Che è la montagna MK2 Dovrebbe Chiamarsi così Sono contento Perché almeno Almeno Quella persona che mi ha Nel video precedente A questa Cioè A pari loro Perché già Ho visto Un attimo I livelli Ho aumentato La percentuale Ma mi sono fatto Un mazzo Tutto io Prima Ok Ci siamo quasi Adesso Facciamo il super salto Ragazzi Un salto nel vuoto Di Penso 500 metri Forse anche di più Ora Vediamo Dobbiamo arrivare Ancora sul Ponte Di legno C'è ancora strada Ci siamo Vai Vai No 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 e io mi sono lanciato ragazzi non hanno avuto il coraggio hanno pensato che morivano forse quello non sapevano non lo sapevano che devono fare il salto vabbè comunque li tiro giù io forse se non vengono giù loro speriamo che hanno capito comunque è stato un bel colpo dai si hanno capito meno male ci sono lanciati hanno capito dai io ho aperto i paracadute che ero non ero in corsa con la moto non la guidavo io quindi mi sono trovato a rischio ma ce l'ho fatta io sono arrivato io sono arrivato ragazzi prendiamo gli altri due sono qui ok dai dai non ce la fai andar su è difficile aspettiamo lì qua dai che il virus è lì l'altro dov'è è a nuoto mi sa ecco là un minuto un minuto un minuto un minuto dai un minuto second 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 ok ci siamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta elicottero il collo lì che ci segue ragazzi ce l'abbiamo fatta io l'ho beccato ho sparato sto sparando di brutto ho preso uno e volato giù ce l'abbiamo fatta mi è piaciuto 21 minuti eh anche gli altri hanno avuto dei dei piccoli intoppi io io purtroppo è capitato capita eh nessuno è nato maestro anche se avrò fatto centinaia di colpi e mi è sempre successo un picco imprevisto però alla fine siamo arrivati questo va bene perché il gruppo è rimasto chiuso unito invece nel video di prima due a destra e due eravamo in due da soli e non va bene non va bene perché se uno ha un problema lo caricchiamo invece così niente vediamo l'incasso finale forse abbiamo preso un bonus forse non c'è stato solo un riavvio la velocità c'è stata quindi e lei se sta raccontando tutte le sue sue storie di notte è un briaco ma come non erano avate voi con me a fare il bagno nudi le medicine ho detto cazzo le medicine ne prendo un mucchio non sto bene per nulla che imbarazzo ok i soldi ecco ecco per te per te per tutti mi dà la mano evidentemente siamo tra i primi forse siamo tra i primi ora vediamo vediamo se sono la rocca mi dai l'ultimo e montana argento eh vabbè loro hanno usato alien le armi spaziali dell'altro game va bene è potente oh beh 400.000 100 investiti ne ho guadagnati 316.000 quasi 17 5100 e passa rp ormai adesso eccoci qua vediamo cosa dice adesso alien alien e no finisce così usciamo dal gioco possiamo a brindare all'ultimo non mi ricordo più ah qui si usciamo da qui ok il video è finito ciao a tutti a joker chiudo